Un tempo andava tutto bene a Shadeside. Ma adesso... non è più così. Pronto? Sei ancora viva. Chi parla? Sta succedendo di nuovo. Questa sera ci sarà la sfida di Sunnyvale contro Shadeside e del rosso contro il blu. La sfida del bene contro il male. Noi cominceremo la guerra dei colori! Tutto ok. Era il 1978. 5.937 giorni fa. Shadeside, una brutta storia di terrore, le ha fatto guadagnare un soprannome. Capitale Killer degli Stati Uniti. Cosa ci sta succedendo? Questi massacri avvengono ripetutamente. Sei l'unica a essere sopravvissuta! Come la fermiamo? Dovete ripartire. Da dove è iniziato? 1666. Il diavolo è qui... ...per cibarsi dei nostri misfatti! Vogliono una strega. Streghe! Streghe! Maledirò la città... ...per sempre. Sono passati tre secoli. La storia finisce qui. Finisce con noi. Chi era quella? Non lo so. Quella stanza era sexy. Sembrava una ragazza normale. Osservazione geniale. L'unica possibilità è scappare via. Correte, presto andate! Siamo tutti maledetti in questa città. Il diavolo è dentro di me. Suggerimenti su cosa fare? ...cerca di non morire. Benvenuti nello schifo! Tornate in vita adesso, bastanti! ... ... ... ... Grazie a tutti